Quinta corsa a premio Charis del Ronco, è un miglio per i tre anni, sono in nove al via. Prima fila per Schiappotti, Lucio Becchetti, Cracstecca, Raffaele Palomba, Castaldigno, Romolo Sani, Cocco GSO, Vincenzo Gallo, Cicle Sgoro, Berto Dorici, Chloe Dorial Mail, Gabriele Quarnetti, Casteggio, Antonio Greppi. Seconda fila, Scherì, Vincenzo Luongo e Cash, Stecca, Warner, Martellini. Praticamente tutti a rete, quelli della prima fila, poi c'è l'errore di Cicle Sgoro, c'è l'errore anche di Casteggio. E allora lottano, Schiappotti alla corda, Castaldigno che lo sopravanza e assume l'iniziativa, all'esterno rimane Cocco GSO. Dalla seconda fila l'inserimento di Scherì che è partita forte, ma ora sbaglia sul finire della curva. E allora restano in evidenza Castaldigno, Schiappotti e ancora Cocco GSO che sceglie di continuare all'esterno. Fra gli altri ora si avvicina Chloe Dorial Mail a guadagnare la quarta posizione nei confronti di Cash, Stecca. Sono rimasti in cinque superstiti da errore con Castaldigno che comanda sicuro a buon ritmo. 44 e mezzo i 600 iniziali, Cocco GSO agisce sul passo all'esterno di Schiappotti, quindi Chloe Dorial Mail e ancora Cash, Stecca. Rallentamento sulla seconda curva e mezzo miglio in 59 e 9 per Castaldigno e Romolo Sani, inseguiti sempre da Cocco GSO che ha all'interno Schiappotti. Poi Cash, Stecca che ha superato Chloe Dorial Mail, il chilometro che va via in 1'14 e mezzo perché torna ad allungare deciso Castaldigno. 14 e 4 l'ultima frazione. Schiappotti cerca di reagire all'interno di Cocco GSO che però è sempre bene incisiva all'esterno, però sbaglia. Ha i 350 finali, allora Castaldigno è in netta evidenza su Schiappotti e Cash, Stecca. Nettamente delineate le posizioni al paletto di 200 finali, Castaldigno ancora in spinta, in accelerazione che si isola da Schiappotti. Su Schiappotti sta finendo il recupero Cash, Stecca che sposta all'esterno e va all'attacco dell'avversario. E Castaldigno che conclude, nettissimo vincitore, Cash, Stecca, sprinta e batte Schiappotti per il posto d'onore. Vittoria per larga dimensione di Castaldigno, passato a condurre in poche battute. E poi, mai praticamente avvicinato, ha chiuso ancora in piena spinta, 1'58,8 sul mio cronometro, quindi media di 1'14,2-14,3 per l'allievo di Romolo Ossani, che ha anche naturalmente beneficiato dell'errore subito al via del favorito Casteggio, mentre Cash, Stecca, è avanzato bene nel finale a battere Schiappotti per la piazza d'onore per un arrivo che recita 3-9-1 numericamente parlando Castaldigno, figlio di Varenne della scuderia Dankas. Romolo Ossani alla guida e al training del vincitore. È tutto, la linea allo studio. Grazie. Grazie.